Stile e personalità, la nuova 208 Black Line declina in modo essenziale e moderno i contenuti della compatta Peugeot. Una decisa caratterizzazione estetica da mettere in risalto in un contesto adeguato, come il Rossini Art Site di Briosco, in provincia di Monza e Brianza, una vera e propria esposizione a cielo aperto di arte moderna, che per espressa volontà del fondatore Alberto Rossini nasce come luogo accessibile a tutti, dove ognuno può recarsi per godere della bellezza delle opere e del parco. Un po' come la Peugeot 208 Black Line, piccola ma dai contenuti importanti, quelli di stile innanzitutto tutti rigorosamente black, come il nome impone. Cerchi in lega da 16, calandra, retrovisori esterni e profilo dei fendi nebbia sono di colore nero con inserti bianchi. 208 Black Line è una limited edition, solo 1200 esemplari, proprio come un oggetto prezioso. Disponibile con carrozzeria a 3 e 5 porte, adotta le motorizzazioni benzina PureTech da 82 cavalli e diesel blu HD da 75. Quattro i colori disponibili, rosso rubino, bianco banchisa, nero perla e grigio hurricane. Oltre agli equipaggiamenti di serie dell'allestimento active, offre mirror screen, volanti in pelle e vetri posteriori oscurati. Qui troviamo artisti fondamentali del periodo astratto, informale dell'arte italiana come Melotti Turchato, Bruno Munari, Pietro Consaga, Andrea Cascella e poi anche una grandissima importanza riveste nella nostra collezione il nuovo realismo, che è un movimento francese ideato da Pierre Stanis. La 208 Black Line per il momento non fa parte della collezione, ma in futuro chi può dirlo? Peugeot Peugeot